Abbiamo qua Spadone della Bandiera, com'è lavorare con i tuoi colleghi stasera qua? Com'è questa esperienza? C'è sinergia, è bello, è una bellissima esperienza. Ma è la prima volta che ti capita di collaborare? No, anche l'anno scorso abbiamo collaborato. Tu che cosa proporrai stasera? Faccio una mezza manica alla Genovese con pomodoro confì, spuma di cacciotta del parco, maggiorana e finocchietto selvatico.